Un progetto editoriale delle cooperative italiane che coinvolge le scuole sui temi della salute, della sostenibilità e dell'enogastronomia. Cucino Expo Sum, presentato a Palazzo Lascri, si è riconosciuto ufficialmente dal Ministero dell'Istruzione, verrà distribuito nel nord-ovest italiano, nei presidi della SL Cuneo 1 e presso l'area istituzionale della Regione Piemonte a Expo 2015.